Coltivava marijuana nell'orto di casa, per questo sono scattate le manette per un agricoltore aretino di 40 anni. A scoprire la serra sono stati i carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Arezzo. L'uomo, un coltivatore di professione residente a San Zeno, è stato beccato con 10,5 kg di infiorescenze e 1,4 kg di canapa pronta all'uso. I militari, assieme ai colleghi del nucleo cinofili di Firenze, dopo un'attenta attività di indagine andata avanti per giorni, sono infatti riusciti a cogliere il quarantenne in flagrante ed arrestarlo. L'uomo aveva allestito la serra poco distante dalla sua abitazione in un orto. All'interno i militari hanno trovato una pianta di canapa ancora interrata dell'altezza di circa un metro e mezzo, ma anche segni evidenti della presenza di altre piante già raccolte, i cui fusti recisi erano ancora visibili sul terreno. Nell'appartamento, invece, i militari hanno trovato e sequestrato 10,5 kg di infiorescenze di marijuana in corso di essiccazione e quasi mezzo chilo e mezzo già pronta all'uso, nascosta in camera da letto. Per il quarantenne sono così scattate le manette.